Ciao a tutti ragazzi, io sono Andami e oggi siamo di nuovo qua su Minecraft nel 34esimo episodio Oggi andremo a costruire dei laghetti zen Era un consiglio che mi avevate dato un sacco di tempo fa E se riuscirò farò anche tipo una cascata davanti all'entrata del nostro tunnel sotto la casa Perché mi avete anche consigliato di fare tipo una cascata che parte da lì Aspettate che forse riesco a zoomare, perfetto Una cascata che parte da qua e qui lascia diciamo lo spazio per l'entrata proprio della caverna E secondo me sarà abbastanza carino Poi invece i laghetti zen li faremo lì dove ci sono anche quelle foglie che sono già un po' per aria Senza il loro tronco vicino perché infatti ho già cominciato a fare un pochetto di spazio Secondo me sarà un bel progetto Cercherò di farlo tutto in questi episodi ma dovrei riuscirci Vi faccio ancora vedere bene come è rimasta la casetta lì del mercataio stavo per dire Del negoziante qui del commerciante guardatelo qua è bellissimo E mi piace abbastanza come è venuto l'edificio anche se è un pochetto spoglio ancora all'interno Appena mi verranno altre idee o comunque se me le potete dare anche voi delle idee le farò qua dentro Ok io ho aggiunto dei light and frame qua con degli oggetti e anche un vasetto qui Così almeno questo qua è contento Che trade ci dà questo? Per 20 di carbone ci dà uno smeraldo Pazzesco Ottimo allora cominciamo a lavorare Sarà una cosa abbastanza lunga da fare quindi probabilmente ci saranno molti 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 tagli Però adesso dobbiamo praticamente definire un po' il contorno di quelli che saranno questi laghetti qua La mia idea era di farne tipo due o al massimo tre su altezze diverse Così almeno riusciamo anche a fare delle mini cascate E direi che possiamo usare della stone per farci un attimino i bordi diciamo Poi copriremo tutto con la terra ovviamente così almeno renderemo il tutto molto carino Direi di fare un primo laghetto più o meno qua Come grandezza credo che vada già abbastanza bene Poi il secondo magari lo faremo lì e il terzo qua che andrà a finire magari il livello della strada Oppure anche un pochetto più in basso Così almeno riusciamo proprio a dare profondità alla costruzione E secondo me sarà abbastanza carina come cosa Perché i laghetti zen sono una figata assurda Aumentano un sacco l'estetica del paesaggio Infatti sono veramente molto molto carini E direi che qua invece possiamo già piazzarci della terra Così almeno riusciamo a coprire un attimino le cose Poi ovviamente dovremmo anche riempire tutto sotto con la terra Perché comunque un laghetto non possiamo farlo tipo piscina che ha un solo blocco di profondità Ovviamente dovremmo farlo abbastanza disordinato Ok con il centro più basso e gli esterni del nostro cerchio malfatto un po' più alti Così almeno riusciamo veramente a far sembrare che sia un vero laghetto E poi aggiungeremo anche degli alberi attorno Tutte le cose fatte molto carine Sarà una figata assurda secondo me Sarà veramente bello Penso che questo tunnel vi è piaciuto un sacco comunque Porco 2 cos'è stato mi sembrava un creeper ma penso fosse nella Ok qua dentro Pensavo fosse un creeper mi son cagato in mano Comunque ho finito gli stack di terra che avevo E praticamente ho finito il primo laghetto Ok devo solo finire ancora gli altri due E poi aggiungere l'acqua L'acqua sarà un casino da aggiungere perché E diciamo bisogna prima farlo a tutto livello ecco E poi comincio a scavare dentro i laghetti Perché se no se aggiungo l'acqua così a caso Sì penso che dovrò appunto fare tipo Tre piscine ok E poi scavare sotto in mezzo per Per fare un pochetto di più di profondità Però all'inizio credo proprio che Dovrò fare in modo Di metter l'acqua prima di tutto In superficie perché se non riesco È veramente un casino e diventerà una cosa lunghissima poi Allora qua posiamo tutto quello che avevo ancora Nell'elementare dello scorso episodio Prendiamo un sacco di terra perché veramente Ce ne servirà tantissima E prima di Di mettere anche alberi e tutto Dovrò ancora aspettare che Si propaghi benissimo la terra C'è l'erba così almeno Poi facciamo tutto a modo Perché una cosa che vi consiglio di fare È aspettare che avete proprio quest'erba qua Così almeno Poi potete lavorare Con l'estetica del paesaggio Invece se non Se avete la terra normale Quella lì marrone come sto mettendo io adesso È un casino perché Dovete sempre pensare che Voi dovete Migliorare un sacco l'estetica Con l'erba Questa qua ok Questa qua è una figata È quello che aggiunge più di tutti Alle vostre costruzioni esterne Così proprio Fidatevi che vi aumenterà un sacco La Il risultato finale ecco Probabilmente non avrete capito niente Di quello che ho detto finora però Perché mi sono espresso malissimo Però secondo me È una cosa molto importante Mettere quest'erba qua Allora qui Dato che dobbiamo affacciarci Alla nostra rotatoria Stavo per dire rotonda Ma in teoria si chiama rotatoria Direi di fare un pochetto più di dettaglio Con la pietra Ok Possiamo fare in questo modo Qua Piazziamo Ancora questo E poi continuiamo con la terra magari Non lo so sinceramente Possiamo arrivare tipo fin qua con la pietra E con la terra Andiamo su di qua Così almeno siamo a posto Mettiamoci anche una torcia di sotto Così almeno non Spona nessuno in teoria E questo non mi piace Ok E Questo qua appunto Dà molto dettaglio Alla All'edificio proprio in sé Ok Facciamo così E magari continuiamo ancora un pochetto di qua Poi facciamo in questo modo Torniamo un po' Indentro Al Al primo laghetto E dovrebbe Bastare la pietra Poi continuiamo con Con la terra Allora Secondo 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 laghetto Vediamo un attimo A che livello farlo Penso che possiamo farlo Tipo Questo lo rompiamo Ok Possiamo creare che C'è una cascatella qua Ok Sì questo Secondo me come primo laghetto Può anche starci Magari ci faremo arrivare pure la cascata Che arriverà Da Da qua sopra Perché Dovremmo poi Metterla da qualche parte L'acqua lì Che Dovrebbe coprirmi all'entrata Ma in realtà fa Un effetto di Vedo non vedo Se si chiama così l'effetto Non lo so Qui di nuovo Dobbiamo Fare Una cosa di questo tipo Allora Direi che Questo Possiamo farlo A livello della terra Che sto mettendo ora Perché Dato che Qua Il livello della strada Andiamo ancora giù di un blocco Probabilmente Questo qua Si abbassa di due E poi ci abbassiamo di nuovo Di due Quindi dovrebbe essere Anche abbastanza simmetrico E dovrebbe risaltare Abbastanza bene Poi c'è Ste cose qua Le sto improvvisando un sacco Non ho mai provato A fare dei laghetti Zen Tipo Ste cose qua Anche se Là sopra Un laghetto Ma è normalissimo Quel laghetto lì Quindi Non sono molto pratico Con i laghi Però Non dovrebbe essere Difficile Anche perché bisogna solo Piazzare un pochetto Di terra E poi scavare Sperando che Il risultato venga Discretamente bene Poi qua sotto Dovrò scavare ancora Ok Allora Copriamo In questo modo Sto facendo andare Un sacco di terra Però Comunque ne avevo Abbastanza Nelle chest Quindi Non dovrebbero esserci Troppi problemi Qua poi metterò Tutto a posto Ok Secondo me ci può stare Adesso dobbiamo fare Tipo Un bordino Con la nostra Carissimo Stone Stone Che ovviamente Aggiunge Tanto 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 Voi dovete sempre Ricordare un po' Diciamo Minecraft Proprio Come è stato creato Voi quando andate in giro Per le montagne Così Vedete La terra E la pietra Così A vista E quindi dovete Sempre 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 ricordare Ciò Che Minecraft Vi porta In ogni mondo Dovete sempre Tipo Ricostruire Quello che Minecraft Ha già costruito Ok E Fare delle cose Che assomigliano A quello che Si trova Veramente in natura Vi aiuterà un sacco A migliorare Le vostre costruzioni Perché Ciò che Sembra troppo Artificiale Poi stona Cioè a mio parere E poi ovviamente Ognuno Ha le proprie opinioni Comunque Si Allora Facciamoci un attimino Il bordo Qua Come abbiamo Detto Che facevamo Così almeno Non dovrebbe Essere Troppo un problema Far Far diventare Abbastanza carino Questo laghetto Ok Facciamo così Questo lo togliamo Ok Poi qua Dobbiamo andare Un pochetto avanti Qui ci metteremo Dell'erba Quindi Abbastanza buono 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 Secondo me Verrà Carino Cioè Sono Sono abbastanza fiducioso Del risultato finale Non so Cioè Proprio in In creative Non avevo mai provato Niente Di tutto ciò E Sto progetto qua Ce l'avevo già da Un bel po' Che era lì Però Devo dire Che Sta Venendo abbastanza bene Devo solo aspettare Che l'erba Si propaghi Dappertutto Perché è veramente Molto importante Avere l'erba Dappertutto Perché mi permetterà Di usare Il bombil E E Tipo Far diventare figo tutto Allora Io Finisco ancora questo Laghetto qua sotto E E ci vediamo appunto Fra poco Ok Ha cominciato a piovere Io ho buttato giù Pure questi alberi qua Che si affacciavano Al Al nostro Mulino E pure notte Quindi direi di Andare a dormire Sono andato abbastanza avanti E Vi dico che Il terzo laghetto Lo faccio Non sotto Sotto il livello Della strada Ma lo faccio Diciamo A livello della strada Un blocco Un blocco in alto Questo perché Non voglio lasciare Uno scalino di tre Blocchi Dal secondo Al terzo laghetto E quindi Secondo me Verrà Verrà meglio così Poi ovviamente Se stona Lo modifico E lo tiro giù Di un blocco Comunque Questo Praticamente Il risultato Ok Ho ampliato un pochetto Qua con la terra Questo sarà il nostro Primo laghetto Lì ho fatto anche una fonte Di acqua infinita Perché Poi mi servirà Tipo Riempire tutto E Più o meno Questa Sarà la dimensione Non so se mi convince Perché Forse dovevo ancora Guardarmelo Un pochetto meglio Però Proviamoci È una scommessa Ok È tutto Tutto così Molto a caso E noi ci proviamo Quindi Qui la terra Sinceramente Non la vedo molto La togliamo Poi Magari Si Si vedrà Cosa Cosa succederà Questo anche lo tolgo Perché Non mi piace Vediamo un attimino Ancora questo Lo tolgo E dovremmo essere A posto Proviamo a fare Anche così Vado Stavo per cadere E Dovremmo Eserci Ok Quindi Acqua Ora facciamo una bellissima cosa Ovvero Mi prendo tre secchi E Vediamo un po' Cosa riusciamo a fare Provo adesso A riempire con l'acqua Perché se Non mi piace Ho ancora tempo Di modificare Ok Quindi Quello che state per vedere Magari non è Nemmeno La cosa finale Vediamo un attimo Qui dovrebbe essersi creata La cosa infinita Vediamo Qui lo mettiamo Lì lo mettiamo E qua lo mettiamo Di nuovo Prendiamo l'acqua Sempre un casino Con quest'acqua qua Poi con la scedersa Ovviamente Non si capisce niente Allora Forse dobbiamo solo più Piazzarla lì Ok Si è già messa Ora comunque Continuiamo A piazzarla Perché Dobbiamo ancora Vedere bene Se ci sta Tipo qui Tipo qui Li possiamo Prenderla Ok Si Secondo me Può starci Dovete assolutamente Darmi dei consigli Voi però Qua sotto Per vedere Se vi può piacere Oppure no Perché Io mi baso Sempre moltissimo Sui vostri commenti Se una cosa Non vi piace Cerco di renderla Abbastanza Bella Per tutti Perché Se no Stasera sarebbe Inutile Ecco Ok Allora Qui Si è messo Tutto a posto Forse Metto ancora L'acqua qua Mi si è messo Qua dovrò assolutamente Far bene Sta cascatella Qua perché Fa cagare E Dobbiamo piazzare Solo più l'acqua Là sotto Come vedete Ho fatto Il Il pavimento Del Del laghetto Diciamo Allo stesso livello Del terreno Qua Perché Se scendevo ancora Magari poteva essere Fin troppo basso E quindi Non mi andava Ecco Volevo Renderle cose Abbastanza Equilibrate Allora Prendiamo solo più Gli ultimi due secchi Dovrebbero bastare Ok Poi ovviamente Possiamo farlo Con l'acqua infinita Qua Se riusciamo A crearla Ok Dovrebbe essersi Creata qua Ottimo Piazziamo Dappertutto L'acqua E E vediamo un po' Il risultato finale Toglierò la shaders Probabilmente Perché Devo capire se Ci sono delle correnti Dentro Il laghetto Oppure no Però in teoria Si è piazzato tutto Tranne qua Ok Dovrebbe esserci Proviamo a vedere Ok Vediamo un attimino Ci sono questi Blocchetti qua Che non hanno l'acqua Qui siamo tutto Qui siamo tutto a posto Anche qua La piazziamo E in questo laghetto Siamo a posto Comunque la grafica di minecraft Normale Fa cagare Proprio E penosa E qui invece A posto Ok Torniamo di nuovo Alla normalità Ok Ho fatto la bellissima cosa Così di tappare questo Strabordo Straborda Straborda Dai blocchi Proprio è una cosa Che non mi piace vedere Quindi Dobbiamo un po' Giocarcela bene Questa È un po' Un casino Sinceramente Dovremmo Dovremmo vedere un po' Poi ovviamente Off camera Quando Anche ci sarà Tutta l'erba Avrò fatto tutto bene Farò vedere Anche Il pezzo Fatto bene qua Però adesso Devo aspettare Assolutamente Che l'erba Si Cioè Che l'erba Cresca E Mentre aspetto Io me ne vado Di casa Ok Perché mi hanno appena Chiamato Quindi devo uscire Al ritorno Se potrò registrare Vi farò un Video commentato Oppure vi lascerò Delle immagini Tipo Cinematics Con Con tutto Il risultato finale Ecco Con già alberi E Bommi Il dappertutto E Poi dovrete appunto Dirmi se Vi piace Oppure no E niente Noi ci vediamo Col prossimo episodio La cascata Anche la farò Nel prossimo episodio Perché mi piaceva Moltissimo Quel commento E E niente Continuate a lasciarmi Anche Altri consigli Vi consiglio di Seguirmi su Instagram E Telegram Perché su Telegram Faccio sempre uscire Tutte le notifiche Dei video Poi altre cose Non so Seguitemi Se volete E mi raccomando Abilitate la campanellina Sotto il tasto Vicino al tasto iscritto Così almeno Vi arriveranno le notifiche Per ogni Mio video E mi farebbe veramente Molto piacere Sta cosa E quindi Niente Noi ci vediamo Col prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti